Sapete, io cerco sempre di immaginare quell'ultimo momento, l'ultimo respiro, sì, la fine di ogni cosa. A differenza degli animali, noi lo sappiamo quanto sia fragile la vita. Uno, chiami il Venezuela, arrivano a bolletta, a bolletta. Prego, prego. A disposizione. No, perché prima lei mi ha chiesto una prima per Bari, ma non c'è. È stato declassato. E allora mi dia una seconda, sempre che ci sia una seconda. È certo che ci sta la seconda, signorina. Già non ci sta la prima, se non ci sta nemmeno la seconda vuol dire che il treno non esiste, no. Poi da Bari ci sta la coincidenza per Roma, o anche per Milano. 657, Milano 2, Napoli-Roma. 703, Milano 3, Bologna-Milano. 805, Milano 6, Bari-Bologna-Milano e Frankfurt. Non ho niente in testa, neanche un corno. Come brutta la mia fronte, così piatta, liscia. ci vorrebbero un corno, due, così anche i miei tratti risalterebbero meglio. E il loro canto. Il loro canto è così attraente. No, non è così. Proviamo più forte. Non è così. Troppo debole. Manca... Di forza. Di... Di... Di vigore. Urlo soltanto. Non riesco a parrire. ... Troppo tardi. Troppo tardi adesso. È finita. Sono un mostro. Sono un mostro. È finita. non diventerò mai più un rinocenuto mai mai la mia carabina la mia carabina la mia carabina mi difenderò contro tutti mi difenderò contro tutti contro tutti mi difenderò sono l'ultimo uomo e lo resterò fino alla fine io non mi arrendo non mi arrendo